E per quanto il pello riconono, in particolare per i nemici di Santa Chiesa, e per quanto il pool di Cerefino, e per quanto ilore di Gesù, un ridivino di Gesù, il tuo, e per il pezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in odore del suo servizio di Dio di Sì, le preglie, le azioni, le gioie, le sofferenze di questo giorno, in rivoluzione del canto e per la salvezza di tutti gli uomini, per la grazia dello Spirito Santo, la gloria del Divino Padre. In particolare preghiamo per che venga riconosciuta in ogni futuro la dignità della donna e la donna che è essa, eccessi delle discriminazioni in cui essi sono vittime in varie parti del mondo. Preghiamo per che la Chiesa, voce della Sonia e del Suo Spirito, defuga con gli scordieri di insieme e vive la lontà e la comunione. Cuore di Gesù, tra vita e tornato a vita morta, ormai della Tua grazia, il cuore dei Tuoi ministri, perché siano efficaci strumenti di speranza e di salvezza, perché in questo tempo di Pasqua possiamo avere come Madrello Maria, attingendo alla Sua gioia intima e profonda per la risurrezione del Figlio, possiamo diventare a nostra volta testimoni gioiosi. Vieni al Tuo Spirito, manda a noi dal cielo, la tua luce, vieni Padre dei poveri, vieni luce dei cuori, con sovrappi, con sovrappi, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sovrappi, nella fatica riposo, nella calura riparo, mettiamo conforto, a luce beatissima, il cuore dei Tuoi fedeli, senza la tua forza, nulla è nell'uomo, auto, la ceux che è sottido, sana ciò che è sanguino, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è ziato, dona i Tui fedeli, che sono in Te confino, I tuoi santi doni Dona morte santa Dona gioia eterna Signore apri le mie labbra E la mia bocca proclami la tua lode Il Signore veramente risorto, alleluia Il Signore veramente risorto, alleluia Il Dio viene a salvarmi Signore vieni presso e mi aiuto Allora al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio, nei secoli dei secoli Amen, alleluia Ecco il ragione di Dio Prende il santa luce Nasce il sangue di Cristo L'aurora del mondo nuovo Dona la casa e gloria Prende la luce al cielo Il buono adoro e il graziato Voglio prendere la Bibbia Guardate gli effetti della risurrezione Tutto qui l'abbiamo sotto i nostri sguardi Gli angeli guardano attuali Il suffice della croce Insieme da cui l'innocente E' il suo sangue di Dio Ancora un effetto O mistero e il risultabile E' l'umana fedezione Morere da sopra il matibolo Cristo sconvince la morte Quindi il crocevisto è colui che sconvince la morte e le tentazioni Dobbiamo innamorarci di Gesù crocevisto Sono tutti gli effetti grandissimi che possiamo soffrire noi Noi diciamo questo inno così bello E dimentichiamo tutto quello che ci propone a vivere nella nostra vita Se non lo fidiamo Noi sono parole che cadono a terra Giorno di grandi prodigi La colpa cerca il perdono L'amore vince il timore L'amore dona la vita Irradia sulla tua chiesa La gioia sosporre Signore Unisce alla tua vittoria Il regatino e il battesimo Siamo l'amore a Cristo Vigitore della morte Al Padre Santo Spirito Ora e nei secoli Ami Che cosa si chiede in questa risurrezione? Che irradia Cristo risorto La gioia pasquale su tutti gli uomini Irradia sulla tua chiesa la gioia pasquale C'è tanta tristezza nel mondo C'è perché c'è tanto peccato Il peccato dona tristezza Ma vivere di Cristo, vivere in grazia di Dio c'è gioia Non abbiamo un porto di risorti Abbiamo un porto da tristi, sconfitti Non è vergognoso questo? Dice sovrabbonto di gioia in ogni tribolazione Salute e onore a Cristo Vigitore della morte Al Padre Salmo venerdì e ci richiamano I salmi ci richiamano La pentenza e la comprensione del cuore Salmo 38 Salmo 38 Salmo 38 Cristina Giuse Si l'inta oggi Oggi è influenzata Non è venuta questa mattina Salmo 38 Salmo 38 Salmo 38 Salmo 38 Salmo 36 Salmo 34 Salmo 36 Il Nessà Nessà Tu Quindi siamo nello spirito della crocefissione, venerdì santo, il venerdì, quando sarò indagato da terra, tirerò tutti a me, forse via. Non punirmi, Signore, nel tuo sdegno abbi pietà di me. In effetti quando Gesù fu crocevisto, tutti guardavano e è stato punito perché ha fatto qualcosa di grave, uno che vede viene incarcerato e dice chissà che ha fatto, cosa ha fatto, perché c'è sempre il sospetto che nessuno è condannato senza colpevolezza. Gesù innocente fu il condannato a morte. La politica fa questo e l'altro. La politica, la politica uccide, la politica, vedete cosa, la politica di cosa, di Putin e cosa sta facendo? Una carne vicina, fiumi di sangue, quanti delitti, quanti lutti, quante sciagure persone che sta, sto compiendo, sta distruggendo tutta l'Ucraina, scusatemi, alla fine che cosa, che cosa, che cosa governerà? E ma c'è, polvere, e tanto lui sarà inghiottito da una maledizione e già è in maledizione. Se fu maledetto Caino perché ha ucciso il fratello, beh, fu maledetto, pensate, questo è il nostro Putin, che cosa, e tanti altri anche che guidano certe nazioni, guerra fontai, che cosa, c'è una maledizione pendente sulla nostra storia. Signore, non punirmi nella tua collera, non castigarmi nel tuo furore, le tue frecce mi hanno trafitto, la tua mano mi schiaccia, per il tuo sdello nella mia carne non c'è nulla di salvo, nulla è intatto nelle mie ossa, per il mio peccato. Non è una radiografia di quello che è accaduto a Gesù Crucifisso, sì o no? Sì. E questo salmo, quando è stato scritto? Sì. Almeno mille anni prima, per cui tutto parla di Gesù Crucifisso, tutto parla della vittoria di Gesù del Messia sulla morte, Gesù Vissori. Insieme le mie colpe, le mie colpe hanno superato il mio caso, sono un carico per me troppo pesante. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, non punirvi, Signore, nel tuo sdegno, abbi l'edità di me. Alleluia, non c'è un alleluia lì? No, non c'è. Sì, c'è. Allora, dovete metterlo, perché qui c'è l'ho, e siccome siamo un tempo lietissimo, alleluia ci sta. Ogni mio desiderio è di fronte a te, oh Signore, alleluia. Allora, attenzione, quindi il valore è il valore del desiderio. Maria Rita, che cosa desidera? Che vada bene le cose o no? Che cosa ci ha messo qui? Avete sentito? Ogni desiderio? Capito? Allora, intanto stiamo vicino e preghiamo per Maria Rita perché verrà a dirci domani che le cose sono andate bene perché, che materie stai facendo? Didattica. 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 Allora, didattica, quindi questo desiderio è di lanciare al Signore, noi lo imbuchiamo e il Signore ti ascolta perché sappiamo che hai studiato. Uno non può pretendere di andare bene se non ha studiato. Allora, la fatica, l'impegno dello studio avrà un esito positivo. Perciò domani, per mezzo di Maria Rosa, ci viene a dire è andato bene, ti salutiamo. Forza. Fetide e fulente. Ascoltate. Allora, non facciamo cadere nessuna parola, allora, attenzione, allora c'è la descrizione di quello che è accaduto, Gesù, sulla croce, fetide e fulente, forza. Sono le mie piaghe a causa della mia stoltenza, sono tutto curvo e accasciato, triste mi aggiro tutto il giorno, sono tutti infiammati i miei fianchi. Fragellazione. Nella mia carne non c'è più nulla di sano. Sfinito e abbinito, all'estremo, rugisco per il fremito del mio cuore. Ecco, questo è quello che ha sentito Gesù prima di essere crocevisto, flagellato, coronato di spino, sputecchiato, caduto, è caduto, metterlo sull'altare. Questa sarà una croce che porteremo come segno di comunione con Mariuccia, quella che ha una malattia rarissima che va persa, si va spegnendo, raggio, raggio. Noi chiediamo la grazia e il recupero. Noi crediamo che è possibile, quello che è possibile, alla medicina e alla scelta. Sì, vediamo, sì. Mettelo sull'altare, allora ascoltiamo, per favore, dillo a tutti il meglio. Non distraiamoci. Sono cose molto importanti. Noi che siamo qui, siamo qui per Cristo, lasciamo stare altre cose che ci distraiamo. Mettiamo tutto nelle mani del Signore. Allora, dalle sue piaie siamo stati guariti. Benedetti e piavi. Perché il mio peccato è cancellato ed è stato rinnovato il mio cuore e il mio spirito. la contemplazione delle piaie di Gesù. Vedete come per questo il Signore, angustiato, accompagnato i discepoli di Emmaus, Cleopà, l'altro è senza nome, perché ci siamo noi, perché noi ci dimentichiamo che Cristo cammina con noi e siamo incapaci di guardare e riconoscere la sua presenza. Gesù cammina con noi, cammina con noi. Non lo vediamo, ma Lui c'è. Così quando, ve lo dico, io ce l'ho con la montagna di Cammarata, che molte volte si sottrae al mio sguardo, perché c'è nebbia, ci sono nuvoli, e che fa? È scomparso, è scomparso il mondo, c'è un sentimento che blocca la presenza di Dio, un sentimento, uno stato d'animo. i miei occhi guardano, ma non vedono. Ma c'è, Lui c'è. Come molte volte, faccio anche un qualche esempio concreto nella confessione, in questa stanzetta chiusa. A un certo punto spegniamo la luce e il penitente, il confessore, che va, scompaiono l'uno e l'altro. Non si vedono, ma siamo un reatteso, siamo presenti, siamo presenti. Chi ci avvolge è l'ombra, le tenebre, ma siamo presenti. Gesù è presente dentro di noi. Non lo avvertiamo perché siamo sopra il pensiero, assorbiti dalle nostre pensieri, le nostre preoccupazioni, e non ci affidiamo a Lui, non ci affidiamo di Lui. Noi azzeriamo la Sua presenza. Capite quanto è importante? Lui, dalle sette anni siamo stati guariti. E se siamo guariti, dobbiamo mantenere puliti il cuore, innamorati di Gesù progimisto. Questa è una profezia di migliaia di anni che noi stiamo rivivendo. Perché lo stiamo rivivendo? perché dobbiamo ridestare la nostra memoria a quello che è accaduto per viverlo nella nostra vita. E noi abbiamo avuto dei sandi che hanno portato le stimmate per dirci loro un'estimmate esterne. Noi li portiamo dentro le ferite. Noi partecipiamo alle sue sofferenze quando noi soffriamo. Invece noi, quando soffriamo, invece di benedire il Signore, lo malediciamo tutto. Come se fosse una disgrazia soffrire. Certo che se noi lo conveniamo a noi, se noi provochiamo il male, piangiamo quello che abbiamo provocato. Ma se nella rettitudine noi siamo feriti, siamo avversati, dobbiamo gioire, essere diedi, perché in quel momento noi utilizziamo e leviamo al merito le sofferenze che subiamo e che non abbiamo provocato. per questo dobbiamo essere contenti. Meglio soffrire perché facciamo del bene antiché soffrire perché facciamo del male. una fa male e poi ha le conseguenze. Allora, essere cristiani non è gestire la propria vita secondo il proprio criterio. Capito? Perché la parola di Dio ci illumina e ci dà il modo di vivere in conformità alla Tua volontà. Andiamo versetto 10 versetto 10 insieme Signore è davanti a Te con il mio desiderio e il mio genio non ti è nascosto. Parmi del mio cuore le cose mi abbandonano non mi resta neppure la luce degli occhi. La luce degli occhi capite per quale motivo Gesù fu entrato dal Cireneo perché la croce l'aveva schiacciato a un certo punto hanno considerato se questo 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 condannato a morte lo portiamo già in mezzo morto come facciamo a crucificherlo? Allora lo hanno sollevato dalla croce e l'ho dato al buon Cireneo e il Cireneo diventa la profezia per noi aiutiamo Gesù a portare la croce aiutiamo Gesù a salvare le anime aiutiamo Gesù a consolare e consoliamo Gesù e gli diciamo che lo vogliamo lo vogliamo bene e che vogliamo comportarci bene anche nelle contraddizioni nelle incomprensioni così come ha saputo sopportare il vilpendio nei suoi confronti capite innamoriamoci di Gesù non è un vantasma Gesù ha sofferto la carne umana come noi soffriamo come i santi lo raccontiamo un po' i miei amici e i miei compagni si scostano dalle mie piaghe i miei vicini stanno a distanza tendono a guati quelli che attentano alla mia vita quelli che cercano la mia rovina tramano insidie e tutto il giorno studiano e i miei amici e i miei amici e i miei amici e i miei amici come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amici ogni mio desiderio è di proprio a te oh Signore alleluia a te confesso la mia colpa non abbandonarmi Dio mia salvezza alleluia confesso a Dio di potenza e a voi i miei amici e le sorelle che un uomo ha toccato in ventesa e il cuore e il cuore e il cuore e il cuore e la mia colpa mia colpa mia grandissima colpa e i su gloria e l'abba signora regina maria che anche gli santi e oi i fratelli e le sorelle vi pregare per me il Signore mio nostro amici e il cuore ma non sei oi il cuore e il cuore e il cuore ha anulite e il cuore signora mi vede misericordio Grazie. 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 Maria, Maria Nicosia. delicata, vorrebbe incontrarla per una confessione, quando può venire, che chiamano a Peppino, Peppino per ora non può rispondere. Domani mattina? Ma ci serve, o lunedì? Forse è meglio come lì. Perché? Meglio lunedì. L'ultimo sanno? Sì, l'ultimo non lo faccio. Dal versetto 14. Io come un sordo non ascolto e come un muto non apro la bocca. Sono come un uomo che non sente e non vuole rispondere. E guardate, Luca l'Evangelista dice Gesù continuava a stare in silenzio. Era versato, era rimproverato, un po' come dire... Schiaffeggiato. Benfeggiato. Deriso. Iesus altem e tacebba. Non minacciava. Vengeve. Perché io attendo te, Signore. Tu risponderai, Signore, mio Dio. Quindi pensaci tu. Avevo detto, non ridano di me. Quando il mio piede vacilla, non si facciano grandi su di me. Su di me. Ecco, Gesù ho ottimitato insieme. Ecco, io sto per cadere. E ho sempre dinanzi alla mia pena. Ecco, io corresso la mia colpa. Sono in ansia per il mio peccato. Si è addossato i nostri peccati. Schiacciato per le nostre ingiustizie. I miei nemici sono vivi e forti. Troppi mi odiano senza motivo. Mi rendono male per bene. Mi accusano perché cerco il bene. Non abbandonare. Io, Signore, Dio mio, da me non stare lontano. Vieni presto e mi aiuto, Signore, mia salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come nel principio, ora e sempre, nei secoli e secoli. A te confesso la mia colpa. Non abbandonarmi, Dio, mia salvezza. Alleluia. Per la tua risurrezione, oh Cristo, alleluia. Gioiscono i geni della terra, alleluia. Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 4, 4, dal 1 al 11. Grazie. 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 Allora, attenzione, una cosa da osservare. questo cielo non è un'ascende sulla nostra storia. Non è una indifferente, è indifferente. Guardate allora, si parla di questa porta aperta nel cielo. Tra tutte le altre cose, questo cielo è richiamato due volte, in momenti soledissimi della vita stessa di Gesù. Quando Gesù uscì dal battesimo, dal fiume Giordano, si aprirono i cieli. Quindi, sul monte Tabor, ecco, una voce dal cielo, ecco, questo è, e qui richiama, il cielo è sempre attento al nostro cammino. Non è un cielo, un cielo lontano da noi, un cielo è l'anima nostra. Anche nel Padre Nostro ci ha messo, che il Padre Nostro che sei? Sei il cielo. Quali cieli? Il cielo del cuore nostro. Perché quando Gesù l'ha voluto indicare, regno di Dio, cede, regno di Dio, regno di Cede, no? Dice, quando il regno di Dio, intra vos est, è dentro di voi. Momento in cui noi amiamo Gesù, ascoltiamo la sua parola e la mettiamo in pratica, noi, il Padre Dio, ci ama, ci amerà. Io e il Padre siamo, verremo in lui e faremo dimora presso di lui. Il cielo sulla terra, il cielo è sulla terra, sul nostro cuore, fatto di terra, cioè dire umano, umano, però con una grande capacità sopranaturale, straordinaria, grande. Allora poi cosa ha visto Giovanni? Poi vivi, ecco, una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo dito parlarvi come una tromba, diceva, sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Subito fui preso dallo Spirito. Capite allora, quello che accadrà in seguito significa che il Signore ci fa sapere tutto. non ci rende, come dire, non c'è segreto nel cuore di Dio. Quello che il Padre mi ha detto, mi ha insegnato, questo io vi dico. Si fa parte della storia, perché nessuno dica, nessuno dice, non mi hanno detto nessuno, nulla, nulla di quello che mi sarebbe accaduto. Ed è questo il gesto primario, proprio come posizione chiara della nostra realtà, è la realtà delle cose che lui ci spiana, ci dice, ci fa vedere, ci lo fa vedere perché possiamo affrontare bene la nostra storia. Ed ecco, c'era un trono nel cielo e sul trono uno stava seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto al diasco e cornalina. Quindi, guardate, viene fisicamente presentato perché la nostra intelligenza possa essere concreta, seduto, colui che stava seduto sul trono. Non c'è nome, per grande venerazione, grande rispetto del nome del Signore. Ed è Dio Padre, Dio Padre. Colui che stava seduto era simile all'aspetto al diasco e cornalina. volendo dare l'espressione bellissima, stupenda e anche sopranaturale, ci serve delle pieghe preziose. Un termine di paragone. Un arcobaleno simile nell'aspetto asmerato avvolgeva il trono. Attorno al trono c'erano ventiquattro seggi e sui seggi stavano seduti ventiquattro anziani, avvolte in canti dei vesti, con colore d'oro sul capo. Guardate, tutte particolari per attirare la nostra attenzione. È il barbettio di Dio per farci capire come sarà questo cielo nuovo. E attorno al Padre c'è qualcosa di straordinario. E ci aiuta a vedere le cose con gli occhi della nostra intelligenza. Dal trono uscivano lampi, voci e torno. Poi ardevano davanti al trono sette piaccolagesi, che sono i sette spiriti di Dio. Questa è la teofania. Teofania significa manifestazione di Dio. Almeno come realtà, come verità, viene presentata attraverso questa magnificenza. Quasi scuotendoci, state attenti perché vi sta parlando e non stiamo sognando, non stiamo solamente fantasticando. È la parola di Dio che tocca il nostro cuore e che dobbiamo rifletterci su. Dal trono uscivano davanti al trono vi era come un mare trasparente, simile a cristalda. In mezzo al trono e attorno al trono vi erano quattro esseri viventi, pieni d'occhi davanti e dietro. Allora, quattro esseri viventi sono i quattro evangelisti, Matteo, Luca, Marco e Giovanni. Ma invece i ventiquattro chi sono? Chi sono i vegliardi? Dodici, dodici. Dodici sono i figli di Giacobbe e dodici apostoli. Gli apostoli, cioè direi, indica la continuità della storia, il Vecchio Testamento, non è estraneo al Nuovo Testamento. Per questo Gesù chiama i dodici apostoli. I dodici apostoli e gli altri dodici? I figli di Giacobbe, Giuseppe, Manasse, Giuda, Pegnavino, sono quelli che poi sono andati, Giuseppe e tutto, dei fratelli. In mezzo al trono e attorno al trono? No. Il primo vivente era simile a un leone. Cioè dire leone di Marco. Infatti c'è la stampa, l'iconografia quando c'è il Vangelo, ci sono le figure. Il secondo vivente aveva l'aspetto come di uomo. e si significa... Luca. Ma come li collegate? Allora, il nostro Matteo parla delle nascite di Gesù, la mitezza, possiamo dire mitezza. Luca invece parla dell'angelo che annuncia l'uomo, il volto d'uomo, l'angelo che annuncia gli avvenimenti grandi. Invece il quarto... Il quarto vivente era simile a un'aquila che vuole. Perché? Giovanni. Perché l'aquila vuole in alto. Perché l'aquila vuole in alto. Ed è il Vangelo che ci sublima, ci fa innalzare verso la divinità nel modo straordinario. Ed è... Si dice che l'aquila è quello che è capace di fissare lo sguardo al sole. E quindi Giovanni è quello che ci fa vedere la pienezza della grazia e dell'invinito di Dio, Padre, di Dio. Si legge sempre nei periodi morti. Anche perché Dio fa con noi come l'aquila fa con l'aquilotto, che quando gli deve insegnare a volare lo fa a gettare, diciamo, da un'altezza alta e poi lo prende l'aquila, la madre, quando proprio è arrivato proprio a terra, che si sta sfragellando per insegnare a volare. Vabbè, questa è la notizia botanica, come si chiama? No, però anche con noi Dio a volte non interviene finché non siamo proprio... Meglio Luca, perché è misericordioso. I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali interni e dentro sono costellati gli occhi. Gli occhi perché? Perché ci fa vedere le cose come stanno. Per questo non possiamo affrontare la nostra storia da ciechi. Allora, un cieco è come uno che cammina nelle tenebre. È così, no? Uno che non conosce la parola di Dio è come un cieco. Pensate quante mamme e quanti padri ciechi. Non conoscono Dio, non conoscono la fede, non conoscono la Chiesa. E sono ciechi che vogliono guidare i ciechi, i loro figli ciechi. Ecco perché veramente c'è una confusione enorme. Genitori che guidano i figli ciechi. Genitori ciechi che guidano i ciechi. E tutti, alla fine, nella forza. Andate a vedere il disastro dei figli perché sono stati guidati dai genitori ciechi. Il disastro dei figli è così. Quando il contesto familiare è tenebroso, non danno da Dio, è finito. Non c'è futuro. I ragazzi si perdono, si falliscono. La storia non la possiamo fare noi. È Cristo che guida la storia. Lui ci precede sempre. Il metodo educativo è questo. È quello che ci dice quale sono le difficoltà. E ci dice il metodo come superare le difficoltà. Tante volte, quando uno è in rovina, ormai siamo nei disastri, come si fa a recuperare? Non è lo psicologo che fa recuperare. È Dio che fa recuperare tutto. La devi ricercare una forza interna che non viene sicuramente dal mondo. Non viene dal mondo. Perché il mondo è già distrutto. Sì, sì. Siamo un loro in mondo. Sì, sì. Ma forse, diciamo, diversa. Perché solo Dio ti può dare, in realtà. È difficile poi andare avanti. Esatto, esatto. Allora, prima si camminava con gli animali. Bastava un po' di fieno, un po' di paglia, un pochino di fame e si andava avanti. Adesso ci vuole un carburante tutto particolare. Il carburante, perché l'uomo possa camminare veloce e bene, con l'assetto giusto, il carburante è Cristo Gesù. Ecco, per cosa vuol dire, si dice uno, ha tanta fede, inizia nel Signore, anche quando un grande genape trasporterà le montagne. E dice, non temere, nervigiatolo di Gerusalemme, narva di Arvigento. Non temere, dirafalassi. Non temere. Io ti renderò forte come una prebbia dalle volte a come l'altra. e ciò che ti è stato l'impedimento sarà tutto risollevato. Donatella, pronto soccorso, vieni. Signore, dove? Pronto soccorso. Pronto soccorso. Ma Marco è il leone, perché, scusate l'ignoranza. perché Marco è il leone, viene rappresentato dal leone? Perché nella tentazione si parla degli animali nel deserto, la prima tentazione. Grazie. Io ho mandato tutto la spiegazione. No, e torna vincitrice. Io ho mandato tutto la spiegazione. Forse sì. È interessante, effettivamente, per capire, io voglio sapere. Sì. Quindi, in Apocalisse, in 4-7, dove Giovanni caratterizza ciascuna delle quattro creature viventi con la propria fisionomia. Il primo vivente era simile a un leone. Il secondo vivente era simile a un vitello. Il terzo vivente aveva l'aspetto come di un uomo. Il quarto era simile a un'aquila che vola. Ogni Vangelo sembra avere un incipit che ne caratterizza immediatamente il taglio contenutistico. In particolare, il Vangelo di Matteo presenta il Cristo uomo. Sottolinea il lato umano del figlio dell'uomo a partire dall'infanzia. Il Vangelo di Marco presenta il Cristo leone. Esordisce con la voce che grida nel deserto, di Giovanni Battista, che simile a un uccito annuncia il re che viene. Il Vangelo di Luca presenta il Cristo toro vitello. Esordisce con il sacrificio di Zaccaria, che preannuncia l'atto sacrificale di Gesù, il quale offre a sé stesso in redenzione dell'umanità. Dovrebbe essere l'agnello qui. No. Il vitello. Che è Luca? Luca, Luca. Luca, scusate. L'aspetto sacrificale. L'uomo, l'uomo, sì, sì. Il Vangelo di Giovanni presenta il Cristo aquila, fornendo la chiave di lettura dell'ascensione. Nessuno è asceso al cielo, se non colui che ne è disceso. Il figlio del Dio. Quindi ha parlato in modo sublime di Dio. Grazie, Mariela. Tutti e quattro, però, concordano su un fatto. Fu lui a sfiodare dalla croce il corpo di Gesù e a deporlo nella tomba di famiglia insieme a Nicodemo, dopo averne chiesto coraggiosamente il permesso a guidare. Sì, Giovanni. Sì, sì. Ho regalato alla nostra buona Tiziana. Diceva che Giovanni si riposava spesso sul mio cuore. Giorno e notte non cessano di ripetere. Santo, 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 il Signore Dio, l'Onimo Deo, colui che era, che è e che viene. Noi troveremo questo in paradiso. Ti saluto. Lo troveremo perché è una descrizione che ci viene fatta nel luogo dove noi eviteremo. Quindi saremo, siamo già familiari di Dio e con cittadini dei Santi. Questa nella Messa c'è, questa qua? Sì. Così era Santa Messa. Nella Santa Messa, appunto, il paradiso è solo a Tania. Non lo dico io. Lo dice il padre Dio. Ed è così. È così, per forza, deve essere così. E ogni volta che questi esseri viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli. Cosa succede? I ventiquattro anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive. Quindi ogni volta che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano il loro colore davanti al trono dicendo Ecco quello che avviene, memoriale, non sarà molte, della risurrezione, ma anche di quello che ci accadrà, il paradiso. Non vediamo questo paradiso che noi lo troviamo descritto qui nell'Apocalisse. E quando noi nella Messa diciamo Santo Santo c'è tutto il paradiso in quel momento? Sì. Padre Gianluzzo, gli occhi davanti e indietro. Sì. Che cosa? Il presente, il passato. Sicuramente noi guardando il passato noi siamo anche istruiti a vivere il futuro, il futuro. Il presente è il futuro. Così, ecco, la tua parola è lampada ai miei passi, luce sul mio cammino. Ti è sempre presente. Non solo, ma anche il passato, il passato prepara il futuro, l'oggi prepara il domani. Oggi noi riceviamo l'eredità di ieri, la sapienza di ieri, le avvertenze di ieri, anche la saggenza, perché se abbiamo sbagliato il giorno di ieri, oggi lo posso portare al Signore per purificarlo e vivere domani con maggiore intenzione e con maggiore amore. E io ho detto pure che l'Apocalisse ci dice come va a finire la storia. Brava. Stavo dicendo proprio questo. Quando uno dice ma chissà che ci sarà dopo. In realtà, quando arriviamo al punto di ricevere la gloria, l'onore e la potenza perché tu hai creato tutte le cose, quindi questi 24 si tolgono queste corone che il Signore gli aveva dato. Quindi l'abbondà comunque del Signore che li incorona e loro inginocchiando si dicono no, tu sai perché? Perché tu hai creato tutte le cose e a volte noi ce lo dimentichiamo. pensiamo che siamo qua tanto per. E quindi questo concetto, queste esprimono la consagrazione nella verità in cui si trovano chi? Soltanto quelli che sono già morti. Le deduzioni che fai. Allora, il volere e l'operare vengono da lui per i suoi benevoli di sei. e sono questi. Allora, attenzione, cosa dice Tiziana? O se è Amos? Amos. E altrimenti tutto questo, prima di enunciarlo, Giovanni l'ha detto Gesù. Ci ha detto, quando vedranno dei segni, voi capirete quello che deve succedere. Quanto voi. Ma ci ha detto pure, vado a preparare un posto. Ma quindi sappiamo che c'è un posto per noi. Tutto ci viene detto. Tutto ci viene detto. Ma rimaniamo nel mistero perché siamo ancora fatti di carne. Questo succede. Il mistero cos'è? È una realtà, l'ascolta, è vera. Allora, la parola di Dio ti toglie il vero e tu fai quello che la parola di Dio ti illumina e ti dice. Capite che significa la presunzione di fare la storia senza Dio? Abbiamo tutti i falliti, sono questi, quelli che non hanno ascoltato i saggi, la persona che ci vuole guidare. Per questo ci precede sempre. Io sono la via. Io sono la via. Dobbiamo seguire questa via. Gesù è una persona. Ecco perché affida a lui la tua strada, la tua via, e lui compierà la sua opera. Affida, abbi fiducia. Affidai, Gesù, abbi fiducia di percorrere quella strada che lui ti segna, ti lindica. E lui compierà la sua opera. Pensate come realizza l'opera di Dio in noi quando siamo obbedienti. E' quello che ha detto la Madonna. Lui ha fatto in me, perché ho filato il mio futuro nelle sue mani, lui ha fatto in me cose grandi. Quando lui agisce, noi agisce cose grandi. Nelle piccole cose che noi facciamo per amore di Gesù, lui fa cose grandi. Nelle piccole cose, lui è nascolto Dio che fa grandi le cose. E ritorniamo al discorso dell'inizio dei discepoli di Emmaus. E gli si aprirono l'opera. C'è, sì, c'è il mistero. Vero è che non lo vediamo. Però sulle parole di Gesù... No, perché loro a un certo punto la parola non c'è. E gli si aprirono gli occhi quando spezzo il pane. C'è questo passaggio importante. Stolti e tratti del credito. Perché non credono. Stolti, stolti, stolti. Perché? Ascoltano senza memorizzare. Carissimo Antonio, ho visto la tua bandiera che sventola. Sì, è così. Comunque, chiediamo al Signore di risplendere di luce risurrezionale. Sì, signor. La luce risurrezionale è questa luce della verità che si è fatta carne, che ha vinto la carne e ha dato a noi la forza e la potenza dello Spirito di Dio. Abbiamo noi sette potenzialità da mettere in pratica. Sette donne dello Spirito Santo. Va bene, andiamo? Responsore. Sì. Santo, 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 il Signore Dio l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene. Tutta la terra è piena della sua gloria, alleluia. I serafini proclamavano l'un l'altro, Santo, 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 è il Signore dell'Universo. Tutta la terra è piena della sua gloria, alleluia. Allora, diceva qui, Lorena, da una testimonianza. Posso, perché l'ho sperimentato sulla mia vita, che la forza solamente vede da Dio. Dobbiamo credere tutti. Allora, altrimenti se uno, in modo presuntuoso, pensa di farci la scelta di lui, questo diventa solo distruttivo. Grazie, Lorena. Lorena è quella, questa ragazza, questa mamma, che è una profezia che, in modo profetico, ha consagrato la sua creatura, nel suo creme, alla Madonna, a quattro mesi, per indicare quella legge terribile per cui si può uccidere il bambino liberamente a qualsiasi momento della vita, senza essere perseguito da una pena legale. Quindi si può uccidere il bambino fino al settimo mese di gravidanza. Capite, significa una legalità terribile di assassino, ma con quale autorevolezza? Noi uccidiamo i bambini, è abominevole questo delitto, abominevole, terribile. E questa mamma ha consagrato la Madonna, solennemente, nella celebrazione equaristica, la sua creatura al Signore. Grazie, grazie Lorena. E noi dobbiamo benedire i suoi genitori che l'ha fatta nascere. Capito? Ecco, esatto. E devi benedire, carissima Lorena, la tua mamma e papà che ti hanno fatto nascere. E salutiamo il mio carissimo, saprete come si chiama, come va di Pio? Pio. Carogero Pio. Anche Carogero Pio è stato già salvato. Adesso aspettiamo la guarigione completa. Oggi è venuto a ringraziare il Signore in anticipo di quello che accadrà fra qualche settimana. Allora, chiedi cosa chiedi a loro? Io chiedo prima la guarigione spirituale e poi quella corporale. Bellissimo. Prima la guarigione spirituale ed è guarito perché cosa abbiamo letto stamattina? Hai perdonato i miei peccati e guarito? Ti hanno guarito prima del febbraio. E ti darà una giovinezza, rinnoverà la tua giovinezza. Come l'agola. Forza? Sì. Grazie, grazie. Le puoi salutare? Sì. Grazie. Come ti chiamo? Io. Carogero Pio. Carogero Pio. Carogero Pio. Grazie. Grazie al Signore. Lo saluto. Guardate, ho un figliolo meraviglioso il quale, dato che è un ragazzo che va a messa, che va al catechismo, è beffeggiato nella sua classe. Diggielo tu. Sì. 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 Come? Lo prendono in giro perché vai in dieci anni. Quattordici anni. Quattordici anni. Dove? In guariscola è? In guariscola. Al quadrivio. Quindi, uno che segue Gesù Cristo è già dichiarato delinquente. Vabbè, Gesù l'aveva detto Gesù che seguendolo avremmo avuto anche questo. Quindi, dobbiamo considerarlo una cosa. Quindi, dobbiamo considerarlo una cosa. Ha una cosa più un'altra cosa. E io, come si fa, come se fa, come se fa. No, ma' la cosa più un'altra cosa. Come se fa? Si. Dobbiamo, chi vuoi? No, ma' la cosa più? No, ma' la cosa più un'altra cosa. No, ma è la cosa più un'altra cosa? Lui viene perché ci andiamo noi. L'importante è che sono vestiti, fanno i libri. E di buona salute. Io l'ho messa a fondere. Vito? Sì, sì. Ogni domenica. Io l'ho messa a fondere. Allora, adesso di vino l'ho messa. Io l'ho messa ogni domenica. Sì, sì. Ti vede a dove... Sei osservato? Sì. Perché la fonda è la città dei ragazzi. Non chiamano nessuna. Donatella, mi raccomando, c'è un ammonimento. Buon amore. Buon amore. Buon amore. Buon amore. Buon amore. Buon amore. Capisco, ma... Tutti così siamo copiati. Ecco. Buon amore. 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 Ciao, ciao. Sì, bellissimo e l'ho guardato. Ma quel giorno c'era Mariella, neanche mi ha ripreso, solo la voce. Ti ha individuato? Sì, osservate anche i seguiti. No, no, è vero. Allora, metti di qua. Dategli la Bibbia. Sì, ma la seconda lettura. No, ma la lettura non c'è questa che stiamo facendo adesso. Dopo, per le loro. La croce di Cristo, nostra salvezza. La croce di Cristo, nostra salvezza, o dono preziosissimo della croce, quale splendore appare alla vista, tutta bellezza e tutta magnificenza. Albero meraviglioso, all'occhio e al gusto, e non immagine parziale di bene e di male come quello dell'Eden. È un albero che dona la vita, non la morte. Illumina e non ottenebra. Apre l'abito al paradiso. Non espelle da esso, no. Su quel legno sale Cristo come un re sul carro trionfale. Sconfigge il diavolo, padrone della morte. E libera il genere umano dalla schiavitù del tiranno. Libera, sconfigge il demonio. Sicuramente mettere nella parete oppure dinante alla porta, dietro alla porta, la croce, è una difesa, una custodia. Ma anche nel segno della croce, quando siamo provati e tentati nel nome del padre, del figlio, del costello. Pensate che quando ci si confessa, la prima cosa, subito, l'atto di comprizione che dice, l'atto di Dio mi prendo e così via, con l'imposizione delle mani, alla fine il segno dote adesso ti assolgo. E' il nome del padre. E' il segno. E' il segno. E' il nome del padre. Io faccio tre croci. E' il nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen. Anche un solo segno. Però mi piace esplicitare che i peccati vengono perdonati nel nome di quel padre che ci ha creato. Nel nome di Gesù che ci ha redente con suo sangue. E nel nome dello Spirito Santo che ci santifica e ci rende forti. Sì. Ecco perché sconfiggia il demonio, libera il genere umano dalla schiavitù del tiranno. Chi è il tiranno? E' il demonio che tiranneggia facendoci cadere in peccato. Sì. Perché il demonio ci vuole distruggere con quello che ci offre. Con i miraggi. Spettacoli. Non so. Tavole rotonde. Tavole rotonde. Poi scendere in piazza, in piazza, per dire noi abbiamo il corpo e facciamo quello che vogliamo. Ecco. Si serve di questo. Per distruggerci. Di libertinaggio. Felicito e libito in sua legge. Le Cleopatra. Ha fatto recito la corruzione nella sua legge. Ciò che è corrotto diventa una cosa illegale. Uccide un bambino adesso è illegale. Uccide un bambino è illegale. Quindi non è perseguito da nessuna legge. Tu uccidi e nessuno ti può dire nulla. Una mamma può uccidere proprio il bambino e non gli dice nulla. Fino a un certo punto, per esempio, no? Appena nasce non puoi uccidere più il bambino. Ma prima, tu sei guardato, non puoi uccidere. Però bisogna vedere se i medici e gli ospedali lo fanno. Certo. Perché ci sono i rettori. Io vedo i rettori, le trovo, le trovo. E poi delle volte quelli che sono a buono non li abbiamo votato. Si ricombra. Su quel legno sale il Signore come un valoroso combattente. Viene ferito in battaglia alle mani, ai piedi e al Divino Costato. Ma con quel sangue guarisce le nostre viviture. Cioè la nostra natura ferita dal serpente velenoso. Cioè dal peccato. Tutti i peccati vengono guariti dalle sue piaghe. Perché dalle piaghe è uscito il sangue di Gesù. Prima venimmo uccisi dal legno. Ora invece per il legno recuperiamo la vita. L'albero del paradiso terrestre. Prima fumo ingannati dal legno. Ora invece con il legno scacciano l'astuto serpente. Bellissimo. Quindi ci sono due alberi. Un albero che ci ha ucciso. Un albero che ci salva. L'albero della croce. Nuovi e straordinari mutamenti. Al posto della morte ci viene data la vita. Invece della corruzione, l'immortalità. Invece del disonore, la gloria. Gloria. Quindi la croce per noi è vanto, è gloria, è saggezza, è anche sapienza. Perché affrontiamo le difficoltà del nome di quella croce che ci dà forza, vigore e vittoria. La croce era prima considerata in maledizione. Poi invece di Gesù la croce. Nel libro del Deuteronomio. Dice il maledetto chi pende dalla croce. Poi invece con Gesù la croce. Il mondo per me è stato crocifisso. Come io per lui. Sua arrogante stoltezza. Oggi, sapete di che cosa si vanda una persona per rappresentarsi nella società? Ha bisogno di un macchinone. Così di mamma mia quanto è importante. E poi è un mestino e è importante per la macchina. vedere cosa è una cosificazione. E poi è piena viglia. Non solo. E' importante perché ha tre lauree. E' uomo o uomo? E' uomo. Si può gloriare quando vuole delle sue lauree. Di avere anche un posto di grande valore, no? Dirigente, non so, ispettore. Sì. E' importante che lo usano come servizio. E queste invece sono lunghe da Dio. E purtroppo è da commiserare quelle che si mandano per nulla. E poi se entrano in un negozio hanno carta bianca. Ci vuole una persona che magari paga piano piano che se li mette a parte per comprarsi anche un frigorifero o qualcosa. No, perché tu sei meschile. E' così. E' marginato. E' a te, Francesco. E' a te, Teresa, la nuova benedizione. Ciao. Anche l'amicizia. Certo. E' amicizia. E' amicizia. E' amicizia. E' amicizia. E' amicizia. E' amicizia. Tutta una proiezia. E' amicizia. E' amicizia. E' amicizia. Soife. E' amicizia. E' amicizia. la catastrofe del diluvio decretata da Dio in virtù di un piccolo legno? Il legno che ha costruito l'arca santa richiama la croce che ci salva. Pensa alla verga di Mosè, non fu forse un simbolo della croce? Cambiò l'acqua in sangue, divorò i serpenti fittizi dei maghi, percorse il mare e lo divise in due parti, ricondusse poi le acque del mare al loro normale corso e sommersi i nemici, salvò invece coloro che erano il popolo legittimo. Capite? Ecco quel bastone che ci richiama la croce, legno, legno, legno. Nel legno c'è il richiamo di quel legno della croce. Tale è anche la verga di Aronne, simbolo della croce, che fiorì in un solo giorno e rivelò il sacerdote legittimo. Anche Abramo prefigurò la croce quando legò il figlio sulla catasta di legna. Vi ricordate che quando salì con la catasta di legno, salì il Monte Moria, richiama il legno della croce. Già, qua si vede che le cose ce le dice prima, come diciamo bene. Prima che avvengono, poi a questo. Allora sono figura della realtà, ombra della realtà. Quello che la prefigura, l'annuncio, perché il Signore ci prepara sempre. Ecco perché Amos ci dice questo. In verità, il Signore non va a cosa alcuna. Non va a cosa alcuna. Non va a nessuna cosa. Nessuna cosa. Antonio, non ti distranno. Non va a nessuna cosa al mondo senza che lui ce lo faccia capire, ce lo faccia sapere attraverso i suoi profeti. Le parole esatte sono queste. Senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Che oggi è la Chiesa, i sacerdoti, chi ci guida. Oggi è la Chiesa. È la Chiesa della Prelusa. C'è una croce fatta con il legno dei bambini e degli emigrani. La morte fu uccisa dalla croce e Adamo fu restituito alla vita. Dalla croce tutti gli apostoli si sono gloriati. Ogni mattina ne venne coronato e ogni santo santificato. Con la croce abbiamo rivestito Cristo e ci siamo spogliati dell'uomo vecchio. Per mezzo della croce, noi, pecorelle di Cristo, siamo stati radunati in un unico vile e siamo destinati all'eterne dimore. Allora, la croce è la chiave che apre il paradiso. E difatti, dove è stata l'inaugurazione del paradiso? Con la croce è stato un ladro finissimo. Allora, la croce è stata un'altra vita a rubare. Ha capito proprio bene. Anche ha rubato il paradiso all'ultimo momento. Si è stato furbissimo. Ecco perché è il padron dei ladri. Siamo qui, amici. Le sponsori. Albero glorioso, collocato in mezzo al paradiso. Morendo su di te, l'autore della salvezza, vinse la nostra morte. Alleluia. Tra tutti gli anni e la terra sei il più nobile. Morendo su di te, l'autore della salvezza, vinse la nostra morte. Alleluia. 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 Ci mettiamo in piedi? Sì. Feticia? Sì. Sì, allora devo. Adesso sono Giuseppe.